Non pensavo che avrei mai suggerito di leggere questo libro. La prima volta che non ho sentito parlare da un'amica che poi me l'ha regalato, in realtà ci sono fatte tante risate perché ci sembrava un argomento un po' frivolo. E invece eccomi qui a suggerirvi il libro di Rossella Migliaccio, Armocromia. L'armocromia è in realtà una scienza e è una cosa che non si è inventata lei, ma l'ha sicuramente resa molto popolare in Italia. Ma vi chiederete perché suggerisco la lettura di questo libro in una rubrica che parla di sostenibilità ambientale? Prima di rispondere a questa domanda vi devo spiegare un attimo che cos'è l'armocromia. Armocromia è lo studio di quali sono i colori, o meglio la palette di colori, che più ci donano e che più ci fanno risaltare. Avete presente quando si dice, oh, quel colore ti sbatte? Ecco, quel colore è un colore che non è in palette con noi. E quindi che cosa c'entra con la sostenibilità? C'entra e come, perché se noi cominciamo a capire quali sono i colori che veramente ci donano, smettiamo di comprare i vestiti che usiamo una volta e poi ci stufano, o che non ci piacciono veramente, o che non mettiamo perché ci rendiamo conto che non ci stanno bene. Perché se acquistiamo meglio, possiamo anche acquistare meno, perché abbiamo meno bisogno di vestiti nel nostro guardaroba. Sono vestiti che poi, fra il resto, stando nella nostra paletta, sono tutti in palette tra di loro, per cui possiamo creare una sorta di capsule wardrobe, con pochi vestiti, che possono essere combinati in maniere diverse, in modo tale da veramente rendere il nostro guardaroba minimalista. Non solo armocromia, in realtà a far bene bisognerebbe comprare l'intero cufanetto, tratta delle forme. E lo tratta in maniera molto inclusiva, cosa che mi piace molto, dicendo soprattutto che la bellezza è un canone non universale, ma assolutamente legato alle mode, e totalmente slegato da se siamo sovrappeso, se siamo normopeso, se siamo sottopeso, eccetera. La bellezza è armonia. E quindi ci spiega tutta una serie di tecniche per vestirsi meglio, e per far sì che attraverso il vestire vengono risaltate meglio le nostre forme, vengono, non dico coperti i difetti, però perlomeno valorizzati i nostri pregi. Per cui, per avere un armadio sostenibile, io suggerisco di passare prima allo studio della migliaccia, dell'intero cufanetto della migliaccia. E solo dopo pensare di acquistare qualcosa di nuovo, o di fare decluttering del nostro armadio.